Avrebbe molestato la minorenne in presenza del figlio sul divano mentre in tre guardavano un film a casa di lui. Attenzioni che non erano sfuggite al figlio che infastidito avrebbe richiamato il padre, invitandolo a togliere le mani di dosso sulla sua fidanzatina. E l'ultimo inquietante dettaglio che emerge dall'ordinanza cautelare nei confronti del tarantino accusato di violenze sessuali su una dodicenne e ora agli arresti domiciliari. Dunque non solo in camera mentre il figlio faceva la doccia ma anche con lui. Quella dell'uomo sarebbe stata una presenza morbosa e assillante nella vita dei due fidanzatini. Era sempre con noi, avrebbe detto agli inquirenti la presunta vittima. Le attenzioni morbose del farmacista sarebbero inoltre avvenute anche in barca quando a bordo c'era la sua famiglia. L'uomo per niente spaventato di essere scoperto avrebbe approfittato della ragazzina quando il resto della famiglia si trovava sul piano superiore dell'imbarcazione. Lo so che lo vuoi anche tu, avrebbe detto l'uomo alla piccola che dopo aver ceduto avrebbe raccontato tutto alla dirigente la stessa che ha poi coinvolto i genitori che hanno presentato una denuncia alla polizia. Noi ci fidavamo di lui, ci diceva che era come una figlia. Avrebbero invece spiegato i genitori della dodicenne agli investigatori. Intanto gli avvocati Fausto Soggia e Nicola Ciaccia stanno valutando l'ipotesi di ricorrere al tribunale del riesato.